Mi trovo a Taranto, in Via Dante, proprio di fronte all'entrata dell'Istituto Righi. E' stato rifatto l'asfalto, il manto stradale, vedete qui Via Dante, manto stradale. E' stata rifatta la pavimentazione del marciapiede, rifatta con i piedi. Lavori fatti, mi permettete la volgarità, a cazzo di cane. Una ditta evidentemente incompetente, incapace. Allora la responsabilità dell'amministrazione comunale di Taranto, dell'assessorato ai lavori pubblici, ad aver mandato a quella ditta, è la responsabilità ancora dell'amministrazione comunale di non aver controllato la bontà dei lavori, la qualità dei lavori. Guardate qui, neanche un mese fa sono stati fatti i lavori, guardate un po', mattoni messi con i piedi, completamente sprofondati, dissestati. Guardate qui, tutto in presa diretta, guardate che dislivello. Guardate come sprofonda il mattone, guardate qui, guardate. Qualcosa di incredibile. E non è solo, e poi continua, anche qui. Cioè fatti così, fatti con i piedi, ditta di incompetenti, ditta di incompetenti, che creano danni alla città, ancora. Guardate qui il chiuscino, il tombino, chiamiamolo tombino, guardate. È modo di tagliare i mattoni questi, buttando cemento così? Guardate, guardate qui, questi, cari signori, sono lavori che vengono pagati dal comune di Taranto, da noi, da noi contribuenti, e noi li paghiamo, questi lavori, attraverso le tasse. Allora, cari signori, cari funzionari, caro dirigente dei lavori pubblici, muovete il culetto dalla sedia e andate per cortesia a controllare come vengono fatti i lavori. Perché non è che si finiscono i lavori, si va via, si intasca quello che è stato convenuto, è stato pattuito e chi si è visto, si è visto. Tanto il lavoro l'ho fatto, i soldi li ho intascati e la ditta dice Arrivederci e grazie, bravo al fesso del comune di Taranto. No, no, finito il lavoro, prima che la ditta venga pagata, prima che venga saldato il debito con la ditta, si fa la verifica e si dice cosa, vediamo, è stato fatto a regola d'arte il lavoro? Sì, no, altrimenti io alla ditta non solo non la pago, ma do pure un calcio nel culo e la cancello proprio dall'albo dei fornitori di servizi in questo caso, perché non è possibile. Questa è una ditta di incompetenti, lavori fatti coi piedi, ma così si lavora. Questo ancora ancora è già grave, ma qui ritorniamo. Neanche un mese, immaginate cosa accadrà tra un paio d'anni, perché non è che la pavimentazione si rifà ogni anno, ogni vent'anni si rifà una pavimentazione, deve durare decenni. Guarda, un mese, mi sono spostato di qualche metro rispetto a quello sprofondamento di mattoni, guardate qui, analoga situazione, guardate, guardate qui sprofondamento e qui guardate come è stato messo il cemento, si tolgono le pietre, così si lavora, guardate, guardate, guardate un po', ma che ditta di quattro soldi è? Ma come cazzo le scegliete le ditte? Come cazzo le scegliete le ditte? Ma quali ditte chiamate? Boh, ditte da quattro soldi, questa è la verità. Allora, qui chi dobbiamo chiamare in causa? L'ex assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, l'assessore Ciraci che è stato ai lavori pubblici fino a due o tre giorni fa, e ora riceverà la patata bollente il nuovo titolare della delega ai lavori pubblici Fabrizio Manzulli. Io mi confronterò con Fabrizio Manzulli su queste problematiche, perché qui la stessa cosa quando le ditte dell'Enel, dei vari enti, fanno gli scassi sul manto stradale, poi se ne vanno, l'ufficio preposto alla manomissione del suolo pubblico non controlla, e abbiamo queste schifezze. Pagate da noi, pagate da noi, in una zona centralissima, creando peraltro un danno, vedete, anche alle attività commerciali che insistono, perché c'è un bar, perché parecchie persone sono cadute, perché parecchie persone sono cadute, e quando cadono e si fanno male, poi chiedono i dadi al comune. E' il cane che si morde la coda, ditta da quattro soldi con un'amministrazione comunale di incompetenti, che dà fiato e spago a ditte che dovrebbero sparire, sparire dalla circolazione. Grazie.